E di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Sant'Angelo a Favara. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 207 ed un autobus di una ditta privata di Palma di Montechiaro. Ad avere la peggio gli occupanti dell'utilitaria francese che sono finiti tutti in ospedale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Municipale di Favara, l'auto con a bordo quattro persone, stava percorrendo Viale Berlinguer-Sant'Angelo in direzione Piazza della Libertà, quando l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo, andandosi ad impattare contro il pullman, che nel frattempo si era fermato nei pressi di un bar per far fare una sosta ai passeggeri, tutte donne e residenti a Licata. Fortunatamente, quando è successo l'impatto, in strada non c'era nessuna di loro. Come detto, ad avere la peggio la famiglia a bordo dell'auto a guidarla il 58enne PR, queste le iniziali del nome. Sul posto sono giunte le ambulanze che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso per le cure del caso. Intanto le signore a bordo del pullman sono state fatte salire su un altro pullman che le ha portate a casa. Ieri sul posto anche la ditta pullara che ha provveduto a liberare dai mezzi e pulire la carreggiata dai detriti.